Tutto pronto per l'atteso appuntamento con la fiera d'autunno che animerà le piazze e i viali di Bassano. Come sempre saranno due i momenti clou. Giovedì 3 ottobre la fiera franca con l'esposizione di Bestiame e il concorso del Buegrasso. Sabato 5 e domenica 6 il mercato in centro storico. Contestualmente Piazzetta Guadagnin ospiterà gli stand delle città gemelle di Mui Lacere e Voiron che proporranno i loro prodotti tradizionali. Giovedì la viabilità sarà modificata, Viale de Gasperi rimarrà chiuso al traffico nel tratto compreso tra il parcheggio Gerose e via Rosmini dalle 6 alle 18 mentre il centro storico sarà chiuso dalla mezzanotte di venerdì fino alla mezzanotte di domenica.